Ciao Angela, innanzitutto ne approfitto per salutare tutti i tifosi del Frosinone che mi sono sempre vicini Allora, quella partita a Firenze è stata, se non ricordo male un'infrasettimanale, comunque a cavallo di una settimana in tre partite lunghe Spal-Parma, che avevo fatto gol al centotredesimo minuto che è ancora oggi, è il gol più in zona Cesarini della Serie A e poi è arrivato a Firenze, io mi ricordo che sono entrato la Fiorentina comunque aveva chiesa un primo Vlauic, era una squadra forte se non sbaglio la Fiorentina di Mister Pioli è stata un'emozione grandissima quella di fare gol perché è stato un gol decisivo un gol nello stadio di giocatori come Batistuta nello stadio in cui aveva segnato anche Van Basten e quindi per me è stata un po' alla pari di quel gol fatto all'Olimpico contro la Roma ma questo è stato decisivo che poi a Roma abbiamo perso mentre questo è stato anche un attimo la speranza e quindi l'emozione è bellissima ogni tanto lo rivedo e poi è stato il mio ultimo gol con la maglia del Frosinone Vero, senti Tania, a proposito di Frosinone stai vedendo la squadra di Francesco che idea ti sei fatto soprattutto dopo il pareggio di Salerno dopo questo grande inizio di stagione qui ti lascio immaginare l'entusiasmo che c'è con otto punti conquistati nelle prime quattro giornate Guarda, sto seguendo moltissimo il Frosinone anche perché ho degli ex compagni di squadra che mi hanno anche chiamato quando dovevano andare a Frosinone come Ocoli e come Bytes e sono molto contento soprattutto per Bytes perché è arrivato l'anno scorso veniva dalla Serie A però ha giocato meno mentre quest'anno comunque si sta ritagliendo il suo spazio perché è un giocatore forte poi ha delle caratteristiche importanti il Frosinone è una squadra che ha un'identità ben precisa mi piace la mentalità di saper soffrire ma allo stesso tempo di potersela giocare quindi rispetto almeno per quanto ho visto adesso rispetto alle altre due volte che il Frosinone ha fatto la Serie A la sensazione è che che la squadra abbia ben chiaro quello che debba fare qual è il suo campionato sta mettendo il fieno in cascina perché poi in Serie A ci vuole poco a fare un trittico di partite con un'infra settimanale dove incontri squadre come Milan Juve e Inter e quindi puoi puoi fare zero punti per partire però mi piace come come gioco mi piace l'entusiasmo l'entusiasmo della neopromossa che che se la gioca su tutti i campi è una cosa molto molto positiva lo dico perché fino all'anno scorso eravamo in Serie A e l'entusiasmo poi ti deve portare anche dei punti quindi il Frosinone è riuscito ad avere entusiasmo fare dei punti e quindi questo entusiasmo viene alimentato senti Daniel come stai tu personalmente come sta andando la stagione della Cremonese non è stato un grande inizio ecco raccontaci un po' le tue sensazioni di questo di questo inizio di stagione dicci un po' come stai che siamo curiosi ma io sto bene sono un giovanotto di 38 anni l'anno scorso ho fatto cioè fino a due mesi fa ho fatto 8 gol in Serie A e quindi ecco mi aspettavo di giocare un po' di più anche quest'anno sono partito ma come sempre come negli ultimi anni parto dietro nelle gerarchie ma io ci sono sempre non mollo mai e la squadra sta affrontando quelli che sono i problemi di una di una retrocessa e che ci sono delle problematiche che piano piano si devono andare a limare le ha affrontate anche l'anno scorso nello stesso campionato il Cagliari che poi piano piano è risalita e noi in questo momento ci troviamo un po' in ritardo anche se sono passate soltanto 6 giornate però abbiamo l'obbligo abbiamo la qualità e la forza per poter risalire il campionato Daniel ti giro il grande abbraccio il grande saluto da parte dei tifosi del Frosinone che ti ricordano sempre naturalmente con grandissimo affetto tornerai da queste parti a trovarci magari prossimamente per una partita non lo so tornerai a trovarci ma io mi auguro di venire quanto prima a vedere una partita allo stadio eccola mi auguro di giocare fino a 40 anni ma se così non dovesse essere nel giro di qualche anno comunque ho la voglia di venire a vedere il Frosinone allo stirpe mi auguro che il Frosinone possa continuare a far bene e quindi che si consolidi in Serie A così da vedere una bella partita in Serie A ecco